Niente scelta definitiva nel Partito Democratico. La decisione finale su chi appoggiare verrà presa martedì, ovvero subito dopo le primarie che si terranno domani. La scelta sarebbe ridotta a due candidati, l'avvocato Lucio Greco o l'imprenditore Maurizio Melfa. Nelle ultime ore si era fatta strada l'ipotesi che i democratici potessero mettere in campo una loro coalizione con un candidato non necessariamente di partito. I Dem sono rimasti oggettivamente spiazzati dagli ultimi incastri. Per mesi di Cristina e i suoi hanno sondato il terreno di un'alleanza ampia oltre gli schieramenti. Il filo diretto con gli uomini e l'ex deputato regionale Pino Federico però non ha avuto alcun esito. I dissidenti hanno trovato casa nell'alleanza prospata, il candidato a sindaco schierato dalla Lega, mentre i Dem sono rimasti senza appoggi concreti. Dire sì al civico greco oppure all'ex assessore Melfa è uno scenario che si sta sempre più configurando. I Dem devono fare i conti con percentuali nazionali in ribasso, ma allo stesso tempo tanti li cercano per provare a chiudere una lista che di Cristina sta allestendo. I candidati pesanti ci sono ed un'eventuale alleanza con il PD viene considerata quasi strategica da candidati attualmente in corsa. Subito dopo l'annuncio del patto del centrodestra con Forza Italia, quella lealista di Michele Mancuso e Udc, invece hanno scelto sul civico greco. Di Cristina ha dunque iniziato a battere altri canali. Starebbe guardando agli ex Dem Sicilia Futura, dato che i rapporti sono presi già da tempo ed un tentativo lo starebbe facendo con esponenti del listone. Senza troppe collotture politiche che non hanno ancora trovato collocazione. La segreteria Dem potrebbe tentare di strutturare una sorta di quarto polo per mettere in difficoltà il blocco dell'imprenditore Melfa, i civici di Greco rafforzati da Mancuso e dall'Udc. Il segretario farebbe leva sul potenziale elettorale della lista ufficiale del PD, alla quale affiancarne probabilmente altre due, ma senza dover rinunciare alla connotazione politica o al simbolo del PD, che invece sarebbe in discussione in caso di alleanza con Melfa o con Greco. La soluzione definitiva comunque arriverà martedì, o Melfa o Greco.